Raga, eccoci qua 3 giorni, 7 ore, 37 minuti e 53 secondi all'evento finale dell'agenzia Edimida Allora raga, oggi come vi avevo detto vi portavo un altro video sull'evento e infatti eccoci qua oggi cosa andiamo a parlare? come avete visto il titolo oggi vi farò vedere alcuni spoiler quindi raga, se non se non volete essere spoilerati su qualcosa dell'evento schippate questo video però il like lasciatelo comunque ragazzi mi raccomando raga, vabbè, cominciamo subito perché quando prima di cominciare lasciate un bel like condividete questo video iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti raga, noi andiamo subito da uno spoiler raga, eccoci qua non è uno spoiler questo qua ovviamente andiamo sulla stanza d'agenti andiamo sempre su Mila ovviamente e eccoci qua ragazzi come vedete 3 giorni, 7 ore, 36 minuti, 47 secondi e come vedete lì in alto in alto a destra diciamo o in basso a destra quello che sia è cambiata, la stanza di Mida raga è cambiata adesso ve la metterò sempre qua raga è cambiata questa raga è l'ultima fase della cosa di Mida quindi il Mida è pronto per l'evento un'altra cosa sull'evento che l'evento se è trovato nel file di gioco si potrebbe si potrebbe l'evento svolgere sotto sott'acqua raga non ho ancora detto ma si potrebbe svolgere sott'acqua l'evento quindi raga mi raccomando adesso raga arriva il primo spoiler raga il primo spoiler raga fa vedere che in due foto fa vedere l'agenzia che verrà distrutta raga quindi non immagino io raga vi metterò le foto qua quindi vi raccomando adesso le vedrete insieme a me ovviamente eccole qua ecco queste due foto ragazzi sono due foto che mostrano l'agenzia quella a sinistra raga si fa vedere un po' l'agenzia un po' tutta ovviamente queste foto si trovano a fare il di gioco raga ovviamente non si vedono come delle foto normali ovviamente però raga sembra la recensiva molto molto distrutta invece la seconda è proprio distrutta letteralmente cioè la prima foto un po' di pezzo c'è ma la seconda forse è solo l'interno nella seconda raga adesso un altro spoiler soltanto adesso non sono delle immagini sono dei suoni dell'evento ragazzi adesso li andiamo a sentire insieme grazie in modo che passi gentilissima come sempre eccole qua raga grazie in modo che passi ecco raga questi sono discusate la moto di fuori infatti adesso vi do la finestra perché sennò qui mi disturbano il video basta basta mi disturbano sennò il video basta ok basta suoni non partire più questi raga hanno i suoni dell'evento raga quindi non si sa ancora se è tutto confermato se tutto sarà così raga ma io vi aggiornerò sempre quasi anche domani io vi porterò un altro video sull'evento quindi raga state sempre aggiornati quindi state sempre a campagna di là un altro spoiler raga che cosa succederà durante l'evento tutti questi mi chiedete sempre a tutti quanti Diego cosa succederà nell'evento ho visto anche in altri video raga cosa succederà nell'evento nessuno lo sa e qua in questo video ve lo dirò allora allarme spoiler secondo alcuni datamere e secondo gli altri fonti durante l'evento verranno tutte le seguenti azioni si potrà sparare e questa raga è una cosa stranissima perché durante tutti gli eventi non si potrà mai sparare con le armi quindi raga questo è il primo evento che si può sparare ovviamente non quelli ovviamente anche quelli dell'evento tipo season 1 season 2 season 3 vabbè quelli lì erano ovvie questo è il primo evento dove si potrà sparare forte effetto della gravità quindi può darsi che boh non lo so voleremo in aria non lo so sinceramente fumo dal terreno che uscirà dal fumo da terra grande impatto energetico come se scoppierà qualcosa tipo è quasi la bolla di mila penso si chiama bolla non so come si chiama vabbè pioggia a intermittenza quindi raga vuol dire che pioverà ok poi irruzione poi impatto con l'acqua quindi ci sarà qualcosa che sbatterà con l'acqua poi c'è ci sarà un vento talmente tanto forte c'è scritto una spinta del vento poi ci sarà una tempesta poi un colpo di luce e poi dei teletrasporti quindi raga io lascerei un bel like solo per questo spoiler qua c'è scritto i seguenti sono le azioni che molto probabilmente verranno attuate il giorno dell'evento raga quindi non è detto però al 90% verranno ci sarà queste cose queste azioni questo era il video io spero che vi sia piaciuto vi ho un po' spoilerato un po' di cose ma domani uscirà un altro video prima ci sarà l'evento su altri spoiler del evento come sarà l'agenzia distrutta che quello lì erano solo due foto ma c'erano altre tante tante altre quindi raga mi raccomando se volete vedere quel video spaccate quel tasto di like raga mi raccomando se siete iscritti iscrivetevi al canale attivate la campanellina noi ci vediamo in un prossimo video bella raga ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti